Il primo ministro dello Sri Lanka, Mahindaraya Paksa, festeggia con i leader religiosi locali la sua vittoria alle elezioni del 5 agosto che gli hanno garantito la maggioranza dei due terzi in Parlamento. Un colpo di mano che permetterà a lui e al suo fratello, l'attuale presidente Gotabaya, di riscrivere la Costituzione e rafforzare così il loro potere. In base ai risultati diffusi venerdì dalla Commissione elettorale, il partito di Raja Paksa, Sri Lanka Podwiana Party, ha ottenuto 145 seggi alle elezioni che si sono svolte mercoledì e può contare almeno su 5 alleati nella nuova legislatura di 225 poltrone. Raja Paksa, 74 anni, presterà giuramento domenica presso un tempio buddista vicino alla capitale, davanti al fratello presidente, 71 anni. Gotabaya è stato eletto presidente a novembre 2019, aprendo la strada al ritorno della dinastia che ha dominato la politica dell'isola negli ultimi 20 anni. Gli Stati Uniti, che in passato hanno criticato i precedenti governi di Raja Paksa, hanno lanciato un appello affinché il nuovo governo rispetti i diritti umani e lo Stato di diritto. Nonostante gli appelli internazionali, i Raja Paksa sono molto popolari all'interno della maggioranza singhalese buddista e ci sono state nuove aperture da parte dell'India, vista la posizione strategica dell'isola nell'oceano indiano. Il primo ministro indiano Narendra Modi ha chiamato Mainda per congratularsi ancora prima che fossero annunciati i risultati definitivi. Da parte sua il premier singhalese in un tweet ha annunciato di non vedere l'ora di poter lavorare in modo stretto con Modi.